Il veicolo è dotato di un sistema di climatizzazione automatico che avvia e arresta la climatizzazione a seconda delle condizioni dell'ambiente. In modalità automatica, il sistema gestisce la velocità di ventilazione più indicata per raggiungere e mantenere il comfort. Premere questo pulsante per attivare il sistema. La spia auto integrata si accende. È possibile regolare manualmente la velocità di ventilazione ruotando questo comando. Utilizzarlo per regolare la temperatura. È inoltre possibile attivare o disattivare la climatizzazione premendo questo pulsante. Infine, per modificare la distribuzione dell'aria nell'abitacolo, ruotare questo comando sulla posizione desiderata. Se si cambia manualmente un'impostazione, la modalità automatica viene disattivata. Per ripristinarla, premere di nuovo questo pulsante. La funzione visibilità consente di sbrinare o disappannare velocemente il lunotto, i vetri laterali anteriori e, su alcuni modelli, i retrovisori esterni. Premere questo pulsante per sbrinare rapidamente il lunotto. Il ricircolo dell'aria nell'abitacolo è automatico, ma può essere attivato anche manualmente premendo questo pulsante. L'uso prolungato di questa funzione può provocare l'appannamento. Si consiglia di tornare alla modalità automatica non appena il ricircolo dell'aria non è più necessario. Infine, per arrestare il sistema, impostare questo comando su OFF.